Purtroppo Marteo Arnaldi si interrompe negli US Open, quarto e ultimo finale slam della stagione tenistica. Il ragazzo infatti di 22 anni d'età si arrende a Alcaraz con un punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, 3-7 in totale. Cerca di lottare al meglio cercando di fare del suo meglio, scusate il gioco di parole, contro lo spagnolo, che è il ridentore già di un premio, di una vincita a Wimbledon. Ma purtroppo nulla da fare, in quella ora, in 59 minuti, avviene il tutto, non riesce a farcela, perde clamorosamente parlando, lottando come un leone, come una tigre, ma non riesce a vincere, non riesce a sconfiggere per l'appunto lo spagnolo Alcaraz, che spegne letteralmente parlando tutti i sogni, tutte le speranze di Arnaldi di riuscire a farcela. Da quei dì vi ricordo che Arnaldi sarà nei top 5, nei top 50, nei top 50, come si dice in italiano. Da narratore italiano di YouTube Italia è tutto, mi dispiace molto per Arnaldi, ma complimenti Alcaraz, questo tenista spagnolo. Ciao a tutti e una buona giornata.